La quarta vittoria in campionato vale la testa della classifica per il sorprendente vasto Girardi di Tommaso Coletti. Di fronte al Filippo Di Tella in alto Molise, questa volta si è dovuta inchinare l'ex capolista Trastevere. La rete che ha deciso il match è quasi in avvio, porta la firma del 19enne Gallo, l'esto ad inseristi nell'area avversaria servito da Ennandez, sfera angolata sul secondo palo, lì dove il portiere Semprini non può arrivare, i gialloblu costruiscono il successo su questo guizzo al sesto minuto e lo difendono con le unghie dalla pressione continua dei laziali nella metà campo di casa. Pasticcio della difesa del vasto Girardi in area piccola al minuto 13, in qualche modo Petriccione e Capitan Ruggeri evitano la capitolazione, l'undici di Franco Cioci non si dà per vinto, la tensione aumenta, gli animi si scaldano e ne fa le spese su tutti Crescenzo, per lui cartellino rosso per proteste estratto dal fischietto ternano di Loreto. Col trascorrere dei minuti i locali si riorganizzano e si fanno minacciosi ancora dalle parti di Semprini. Prima del rientro negli spogliatoi anche l'allenatore in seconda ospite De Luca viene fatto accomodare fuori dalla terna arbitrale per proteste. Alla ripresa delle ostilità Berardi e Carta nel Trastevere prendono il posto di Avellini e Giordani richiamati in panchina. La primavera iniziativa dei secondi 45 minuti è dei Molisani con Canale da posizione centrale rispetto alla porta servito dal compagno di squadra Fiori. Siamo al quarto minuto, il Trastevere si rivede qualche minuto più tardi, su calcio da fermo la barriera blocca i propositi bellicosi degli ospiti. Finale di partita Sergio di testa fa gridare al gol ma Semprini gli nega la gioia della marcatura con un grande intervento. Molisani vicini al raddoppio. Con questa conclusione si arriva al termine di un confronto compattuto. A tratti aspro a sorridere sono solo i padroni di casa che in compagnia dell'Avezzano guardano tutti dall'alto verso il basso a 13 punti. Domenica prossima altro big match per la formazione di Mister Coletti. Attesa a Riviera delle Palme di San Benedetto contro il Porto d'Ascoli.